parlare di tutto e di più roba inutili allora quello eccolo qui a wanted special universe avatar reward offered ed è scritto tutto in spagnolo però sostanzialmente cerca questo avatar qui e dice se ce l'hai cosa vorresti in cambio e se lo taghi nella risposta potete mettere d'accordo con guero se avete mintato questo avatar qui invece il vincitore vediamo se l'ho fatto vedere win trip no non ho messo il disegno dell'avatar comunque ben detto il numero 90 di mint 00 90 quindi chi è il fortunato beato lui tra l'altro faceva si potevano anche guadagnare dei premi seguendolo in live a guero quindi consiglio nel caso di seguirlo dovete parlare un po di spagnolo se no è difficile da fare però se lo sapete un po lo spagnolo potete anche entrare in live troppo mi sento i tiri piano si arrivano a fine mese chi era vinti arrivano a fine mese allora quindi vi dicevo a parla tanto parlando di avatar quindi l'elenda sono a floor price di un net 19 se vi potete interessare kerbira avatars siamo praticamente sold out se non ufficialmente sold out 3060 siamo ufficialmente sold out quindi ne sono andati sold out in meno di due giorni e un giorno e 45 ore quindi direi molto positiva la reaction molto più positiva rispetto ad esempio quelli avatar di aguero che comunque nonostante sono intanto sono molti di più sono 9 mila e passa questi sono un terzo però nonostante comunque siano passate due settimane una settimana e mezzo comunque non hanno venduto molto e nonostante siano stati annunciati anche i vantaggi per gli holder del degli avatar di aguero quindi altrimenti siamo mille a 2270 con 1700 owners probabilmente andrà sold out con molta molta più calma rispetto a kerbira tra l'altro kerbira che non abbiamo di cui dobbiamo aspettare il reveal che vi ricordo sarà giovedì perché 48 ore dopo la il public mint quindi noi abbiamo fatto il mint anticipato noi che avevamo la whitelist avevamo un altro avatar una land abbiamo visto requisite la volta scorsa oggi hanno aperto il public mint a tutti quindi indistintamente dall'avere dall'avere o non avere degli avatar o degli ass o del 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 land e perché non mi ho ancora segnato i 20 punti di puna guerra ma mi è arrivato la cioè ho visto qualcuno a qualcuno li ha segnati se non te li ha segnati prova a rifarla almeno ho visto che negli ultimi periodi ci sono stati problemi a riguardo nel senso che a gente che l'aveva fatto poi li aveva tolti ma rifacendoli li risegnavo un'altra volta quindi nel dubbio se hai tempo per rifartele intanto non dovrebbe prendere troppo tempo io non ho ancora fatte però da quanto mi sembra di aver capito non ci vuole molto ti consiglio di rifartele che ti sei perso niente un po di aggiornamenti vari sulle sostanzialmente suo aguero che sta cercando l'avatar il quest'avatar qui sul lensei la scusa sul lensei sull'avatar se il di laker beers di cui di cui di cui un aguero e quindi ricordiamo intanto i vantaggi che da avere un avatar di aguero che sono quelli per partecipare alcuni vers quindi entrando ci sia un pool dedicato di 250 mila sand riservato tra tutti quello diviso tutti coloro che hanno un avatar più il pool aperto tutti che sarà molto irrisorio non so immagino cinque sand che ne so più o meno quello c'è anche per sportsland che aperto oggi e qui andiamo a vedere un po il i dettagli di questo evento si può entrare tranquillamente liberamente si gioca alla sportsland per ottenere memorabilia e ci sono dei premi speciali speciali per chi ha gli nft ottenendo cioè holdando uno di questi nft che andiamo a vedere da qua da get yours no per un'altra pagina che poi sicuramente voi non vedete infatti allora un attimo prendo il link voilà comprando uno di questi uno di questi cappellini tra l'altro belli cavolo sono andati sold out quelli i 70 a forma di leone epic netherlands cavolo bello comunque comprando uno di questi cappellini costano tutti 10 sand avete la possibilità di guadagnare altri sand che sono che la tap sono 12 quindi fate voi se vi fa piacere comprarli comprateli perché praticamente poi ci rientrate dal costo o forse no perché dipende da quanto gas spendete per pagare le transaction fee perché vi ricordo che tutti questi asset sono su rete ethereum e quindi si pagano le gas fee quindi se vi interessa magari per riuscire a comprare ad esempio un asset epico con delle determinate caratteristiche che magari possono essere utili tipo questo che ha due di difesa due catalisti difesa piuttosto che un altro che magari può essere più interessante non so adesso sto guardando al volo se trovo qualcosa sono tutto difesa o magari tutto sono tutti col magic in mezzo mi sa comunque magari trovate ci può essere qualcosa di interessante potete pensare di comprarlo dicendo poi mi servirà per l'alpha season o per le prossime alfa season per giocare avere un vantaggio di c7 comunque non sono tanti considerando che l'asset è epico vediamo quanti caratteristiche 47 difesa non male certo sicuramente avessi avuto tre gemme se non catesi tre gemme di di difesa avrebbe avuto un valore più alto però vabbè ci può sempre stare per 10 cent non sono tanti grazie a mirosh per l'abbonamento dove lo prendo l'avatar di kun se vai sul sito nella sezione sul suom dovresti trovarlo vediamo vediamo se da qua c'è un un link con aguero discord eh comunque trovi ti posso mettere il link anche qua in chat quello di aguero dovrebbe essere kuniverse che ho c'è la kuniverse punto sandbox punto game scritto kuniverse k universe punto sandbox punto game quindi vai da lì e lo puoi mintare subito da minti or avatar ovviamente questi avatar sono su rete ethereum quindi costa bisogna pagare gas p perché siamo su rete ethereum gli avatar dei care beer non si pagano le gas fee perché sono su polygon però ormai sono altri soldati quindi bisogna per forza comprare che sono entrati nel metaverso bene mi sembra aver detto tutto di non essermi perso nulla allora vediamo giusto un attimo l'annuncio di the sandbox per quanto riguarda ah c'è anche no che questo è sportsland va bene quindi questo è quello che vi dicevo prima no andiamo da sandbox ah no sono già sul sandbox questo diceva si e poi dice se dove per vincere 12 send guadagnare un altro perché in teoria sono due memorabilia diversi c'è un memorabilia per tutti e solo quello perché è l'nft e bisogna avere uno di quegli nft che vi dicevo prima vediamo se c'è altro una discussione no nulla e poi c'era un'altra cosa che hanno segnalato ma è passato un po' in sordina e questa la devo prendere mi sa da discord di the sandbox quindi datemi un secondo dov'era 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 community hall no events contest eccolo qua dovrebbe essere questo esatto come cavolo faccio a farvelo vedere beh è quello per i cool cats vediamo se da qua mostra qualcosa se volete avere eccolo no vediamo opportunity and sports a parte che dicevo save the date join cool cats c'erebbe cool cats nft animo cabrenze one football ci sarà il meeting di una collezione vediamo se dal sito forse si riesce ok si esatto il 17 novembre 2022 lanciano questa collezione cool cats fc football club ovviamente è una collezione 4000 avatar nft creati da cool cats vi ricordo collections open si cool cats quelli sono possiamo anche andarli a vedere cool cool cats nft cool cats sono questi questi qua quindi in collaborazione con animoca brands che spoiler è sempre proprietaria in parte anche di the sandbox quindi 4000 nft unici creati da cool cats animoca brands e one football quindi se vi può interessare per entrare a far parte cioè per entrare a far parte per avere la possibilità di vincere uno di questi nft cioè uno di una allo list al meeting di uno di questi nft dovete andate su discord anche perché altrimenti dovrei trovarvi dove lo dicono vediamo se c'è scritto anche qua all the action rewards no se andate su discord di this inbox nel canale events and contest trovate proprio l'annuncio e dovete followare su twitter cool cats fc followare animoca brands e riempire il form con 3 dati quindi se volete vi interessa dateci un'occhiata anche a quello stavolta sarà una delle poche volte che sono in orario anche a chiuderla voilà oddio ok ci siamo sportsland questo è lo stadium ok sei un fan del calcio sei pronto a diventare una leggenda oddio stanno attivando quest esplora i fantastici posti fan zone trophy room narrators va bene li scopriamo man mano che li visitiamo qualcos'altro no ok vedo già delle cose da raccogliere già mi ispira questo sarà tipo i mirati arabi sicuro però devo salire in qualche modo ok c'è la scala da qua qua vabbè dai carino mi sembra fatta bene tanto vedo un punto di interesse ah ok ottimo si tra l'altro mi ha condiviso anche le foto mister gold che crevate insieme quindi top ah qua c'è un altro c'è qualcos'altro no direi che di qua devo passare di qua questo è tipo uno store si store esatto e poi per arrivare sopra passiamo la coda dei ticket immagino bisogna rassalir c'è un QR code interessante ah so che i token ce ne sono solo dieci però per salire sopra là può essere maradona museum avranno messo il punto si sicuro esatto museo di maradona ma che bello ho fatto le statue tra l'altro sicuramente saranno acquistabili infatti immaginavo tra l'altro mi piace che sono tutti in bianco e nero perché come per dire statua di marmo silver maradona silver oh qua ah ok ah avevo detto cavolo sono dimenticati di mettere cose no sai che sarà qualche quest ecco quella d'oro ci sta gold medal ho capito perché il leone è andato via subito ma non il leone il leone cavolo è proprio fatto bene oh ho visto ho visto un interest point punto di interesse tra l'altro ce l'hanno anche sul delle persone in testa dei cappellini tra l'altro non so se avete sentito che è riuscita la notizia adesso non so se è fecca o vera del che hanno preso dei finti dei finti tifosi perché non ce n'erano ed erano tipo tutti i mezzi indiani che tifavano tutte le squadre tutte le nazionali comunque qua non ci c'è una missione da fare ma io volevo andare al punto di interesse ok ah ok perfetto ho trovato nel frattempo un altro punto di interesse soccer field allora sarà tipo di qua ah no ce n'è uno anche sopra oddio però quello che dovevo guardare io sarà tipo di qua no sotto statue juventine per maradona juventine sono in bianco e nero no come cavolo ci si va ad arrivare no non è qua meno che non c'è un passaggio segreto qua ci sono le docce mannaggia non è di qua devo passare da un'altra parte porca miseria no beh dai mi sembra fatta bene comunque come experience ah si ecco dovere ah qua ci sono tutti i cappellini ah belli cavolo questi sono quelli epici immagino eh sono quelli animati cavolo che verli ecuador ah ecco vedi così abbiamo anche modo di guardarli prima di comprarli ecuador portogallo ah ti dice addirittura roar ah anche quello del messico con le maracas bello questo in giappone potevano farlo un po' meglio quello con la birra Argentina il sole no sono bellissimi cavolo li prenderei se non tutti quasi uh quello con il Canada che è tutto illuminato con l'ostraliano con il boomerang no che belli ci vuole quello dell'Italia questo beh carino questo Uruguay no Argentina Argentina si Argentina o no si Argentina questo è il Galles carino eh quello dell'Inghilterra è bello eh sì sì quello del non so che stato sia ok oddio oh ho preso un ok ho preso un cappello a casa ma quindi posso sapermelo ah me li prende ah e posso anche mettermeli no bello posso anche provare top questa cosa fantastica me ne metto subito local fammi vedere i local no questo bello quello del belgio che spara le cose dalle corna russia che non si capisce ah esce un cubettino con la russia no non è russia altro che russia infatti però la bandiera no la russia ha altri colori cioè più o meno gli stessi ma sono con un diverso ordine immagino non ha il simbolo di prancia questo ma questo quando si apre mamma mia mettimelo subito bello anche questo con l'isolina però è ferma si muove solo un pochino la palma sono utili i cappelli delle nazionali a cosa servono nel gioco servono se vuoi avere 12 send di reward se ne compri uno con 11 send e ci sono anche le coppe ok questa non le posso prendere cavolo bello aspetta fammi prendere quello dell'olanda grazie vi mettiamolo proviamolo ma sai che vi dirò non è che mi ispira così tanto sembrava più figo invece cavolo tipo quello della spagna di ma sai che non è che non è che la spagna non è che che è che Grazie a tutti.